Nell'attesissima settimana che va dal 23 al 27 di ottobre 2023, G. Lai e appassionati di Terra Amara assisteranno a una svolta che cambierà tutto. Il mistero che aleggia da tempo sarà finalmente svelato. La misteriosa morte della signora Hunkar è stata opera di Beice. Ma per apprezzare appieno la rivelazione, è fondamentale ripercorrere ghii e venti chiave che hanno preceduto questo colpo di scena. Un ritorno a Terra Amara, episodi precedenti in dettaglio. Mushgan, vestita con eleganza discreta, bussa con determinazione alla porta di legno massello della residenza di Gulten e Seten. Entrando, con lo sguardo serio e la voce ferma, esorta i due a cercare un altro luogo dove vivere. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche, grazie. Questa abitazione, spiega, è l'unico bene ereditato dal suo defunto Yilmaz e ha intenzione di donarlo alla sua anziana zia come segno di rispetto. Questa notizia colpisce profondamente Gulten e Seten. Gulten, con gli occhi lucidi, guarda Seten che cerca di confortarla. Nonostante il cuore pesante, la domestica, con una rinnovata speranza, promette al suo amato che troveranno una nuova casa, un luogo che potranno chiamare loro. Nel frattempo, Demir, in un gesto di generosità, offre un'affascinante abitazione a un prezzo accessibile alla dottoressa Umit. La dottoressa, tuttavia, riceve un consiglio malizioso da Fikret e, poco dopo, chiama Demir con un tono di urgente preoccupazione, informandolo di un problema con le tubazioni della nuova casa. Demir, sempre pronto ad aiutare, arriva rapidamente e, con maestria, risolve il guasto. La dottoressa Umit, visibilmente sollevata e forse un po' imbarazzata per l'inconveniente, decide di ringraziare Demir con un bacio inaspettato. La chimica tra i due è innegabile e, portati dall'emozione del momento, trascorrono la notte insieme. All'alba, Demir, con uno sguardo intenso e una voce carica di emozione, rivela a Umit i suoi piani di divorziare da Zuleya e di costruire un futuro con lei. Durante uno dei lavori di ristrutturazione di un vasto terreno verde, Behice, in un angolo nascosto, trova una vecchia scatola metallica arrugginita. All'interno, scintillanti al sole, ci sono dei soldi, la fortuna perduta di Yilmaz. Ma c'è un problema. Quei terreni sono registrati a nome di Zuleya e Behice sa che legalmente non ha diritto a quel tesoro. Il 23 ottobre del 2023, un lunedì come tanti, si rivela un giorno denso di rivelazioni e intrighi nella vita di Zuleya e Demir. Zuleya, con un'espressione carica di tensione e ansia, si confronta con Demir. Estrae con cautela una vecchia lettera ingiallita dal tempo, una lettera che aveva rinvenuto in modo casuale nell'ufficio di Demir. Il mittente? Adnan, ormai defunto. Con parole ponderate e con toni di rimpianto, nella missiva Adnan confessava l'esistenza di un figlio nato fuori dal matrimonio, un figlio che non aveva mai intenzione di riconoscere o di cui prendersi responsabilità. Demir, mentre scorre la lettera, riconosce immediatamente la grafia di suo padre, quella stessa grafia che aveva visto su tanti altri documenti nel corso degli anni. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Sebbene sia scosso dalla rivelazione, l'uomo è sicuro che dietro quella lettera ci sia una mano nascosta, qualcuno che mira all'enorme patrimonio degli Yaman. Zuleyya, però, è meno scettica. Pensa che la lettera possa nascondere un granello di verità e sollecita Demir a considerare l'idea di avere un fratello sconosciuto. E se questa notizia dovesse emergere in pubblico? Potrebbe gettare ombre sul prestigioso nome degli Yaman, mettendo in cattiva luce anche i loro figli, Leila e Adnan. Ma mentre la tempesta di questo segreto minaccia di travolgere la famiglia, Demir sembra sempre più attratto dalla magnetica dottoressa Umit. Passano ore insieme, condividendo segreti e complicità. Ma ciò che Demir ignora è che Umit non è lì per caso. Sta seguendo un oscuro piano ideato insieme a Figret. Nel frattempo, Ali Rahmet fa una scoperta stupefacente. Yilmaz aveva accumulato un fondo cospicuo, un patrimonio di oltre 30 milioni, destinato al giovane Kerem Ali, ma solo quando questi avrebbe raggiunto la maggiore età. La notizia illumina il viso di Mushgan, che vede in questa eredità una luce di speranza e stabilità per il futuro. In una terza mattina del 24 ottobre 2023, il tranquillo martedì è pervaso da sottotrame e decisioni importanti che cambieranno il corso di molte vite. Mushgan, con la sua indole equilibrata e riflessiva, apprezza profondamente l'imparzialità con cui Yilmaz ha trattato i suoi figli. Sia Kerem Ali, frutto del loro amore, sia il bambino nato dall'unione con Zuleya. Ritiene quindi che sia giunto il momento di chiudere il capitolo riguardante l'enorme eredità di Achaia. Nonostante l'importanza della somma rinvenuta nelle proprietà di Zuleya, Mushgan dimostra un nobile distacco e decide di non avanzare alcuna pretesa su quei soldi. Tuttavia, Behice, sempre assetata di potere e benessere, non condivide affatto questa visione altruistica. La prospettiva di attendere che Kerem Mali diventi adulto per accedere a quella fortuna la esaspera. E in un acceso scambio verbale, dominato da uno slancio d'ira, svela a Mushgan la verità nascosta dietro le sue azioni. Non era la preoccupazione per il benessere di Kerem Ali a spingerla, bensì la visione di una vita avvolta nel lusso delle strade di Istanbul. Questa confessione brutale apre gli occhi a Mushgan. Capisce l'inganno e la manipolazione di Behice, che l'ha usata come pedina nel suo gioco per arricchirsi. Sfoderando un coraggio che non si vedeva da tempo, Mushgan si oppone fermamente a Behice, dichiarando che, da quel giorno in avanti, la zia avrebbe dovuto farsi carico delle proprie responsabilità economiche. Mentre questi drammatici eventi si svolgono, Ali Rahmet osserva con profonda ammirazione la rinascita di Mushgan. Vede in lei l'eco della donna forte e indipendente che aveva conosciuto in passato. Nel profondo sente un'ombra di rimorso per le decisioni prese, in particolare per l'ingiusta espulsione di Chetan e Gulten dalla loro dimora. Il 25 ottobre 2023, un mercoledì permeato di tensioni crescenti, Behice, con il peso dell'isolamento e un'acuta rabbia che la divora, decide di lasciare la sua attuale residenza. Nel frattempo, l'intimità tra Demir e Umit si rafforza sempre di più. I loro incontri diventano frequenti, quasi rituali. Umit, mentre osserva una fotografia che ritrae Demir e Sevda, non può fare a meno di confessare, quasi come un segreto sussurrato a se stessa, la crescente attrazione che prova per lui. È evidente che entrambi stiano sviluppando sentimenti genuini e profondi. Nel frattempo, Behice trova rifugio nella casa di Gulten, che è stata recentemente abbandonata da lei e Chetan. Non appena entra, Behice inizia a comportarsi come se fosse la padrona, esercitando un dominio totale sull'abitazione. Non si ferma qui, però. Armata delle prove dell'omicidio di Hatip da parte di Gaffur, decide di ricattarlo. In modo audace e beffardo, Gilly chiede di svolgere compiti umili, come buttare la spazzatura. Anche se Gaffur inizialmente tenta di resistere, la sua resistenza si sgretola quando Behice gli fa pesantemente sentire il peso del ricatto. C'è anche una sottile ironia nel fatto che Gaffur sappia del suo coinvolgimento nell'assassinio di Hunkar. Demir, tuttavia, ha un intuito acuto e non gli ci vuole molto per unire i punti e comprendere che Gaffur è sotto l'influenza di Behice. Infuriato, Demir affronta Gaffur con una foga indomita, aggredendolo fisicamente e chiedendogli perché mai dovrebbe lavorare per una donna così malvagia, che tra l'altro non gli offre nemmeno una compensazione. Mentre questa trama si dipana, anche Sanillet, con il suo istinto, inizia a percepire che c'è qualcosa di sospetto nell'interazione tra Gaffur e Behice, ma non riesce ancora a capire esattamente quale sia questo misterioso legame. Il 26 ottobre 2023, durante una giornata autunnale, Zuleya, con la determinazione che sempre la contraddistingue, continua a cercare risposte riguardo alla morte misteriosa di Hunkar. La sua scelta di affidarsi a un investigatore privato, nel tentativo di penetrare gli strati di questo mistero, inizia a portare i suoi frutti. In un clima di crescente tensione, una testimonianza inattesa si presenta, promettendo di svelare la verità. Un tassista, con le mani ancora segnate dal lavoro e lo sguardo onesto ma preoccupato, decide di condividere ciò che sa. Racconta di un giorno che non potrà mai dimenticare. Aveva raccolto una donna, dalla silhouette distintiva, capelli corti e corvini, e l'aveva trasportata proprio vicino alle rovine antiche, lo stesso luogo in cui, poco dopo, Hunkar sarebbe stata trovata senza vita. Quando G viene mostrata una fotografia, il tassista senza esitazione indica Behice come sua passeggera. L'implicazione di tale rivelazione è devastante. Demir, lottando con la sua indole tempestosa, lascia che la rabbia prende il sopravvento. Senza pensarci due volte, irrompe nella dimora di Behice, guidato da un desiderio bruciante di vendetta. Ma mentre le sue mani cercano il collo di Behice, Zuleya e Sevda, correndo contro il tempo, riescono a fermarlo. Lo esortano a riflettere sulla gravità delle sue azioni, ricordandogli che pur nell'affermazione della giustizia, servono prove concrete. Ma proprio quando sembra che le tessere del puzzle stiano andando al loro posto, emerge un dettaglio sconcertante. Il tassista, nel suo racconto, parla di spari uditi quel giorno. Mahunkar non è stata colpita da un proiettile, ma piuttosto brutalmente uccisa a coltellate. Tale discrepanza fa sorgere dubbi sulla veridicità del suo racconto. Potrebbe essere stato spinto da motivi pecuniari? Forse la promessa di una ricompensa? Eppure, nonostante questa incertezza, nel profondo, una convinzione cresce inarrestabile tra gli abitanti del paese. Behice è la principale indiziata. Ma come potranno dimostrarlo oltre ogni ragionevole dubbio? Il mistero intorno alla morte di Hunkar diventa sempre più fitto il 27 ottobre 2023 a Kukurova. L'aria è palpabile, carica di emozione, segreti e sospetti inconfessati. Demir, il cui volto è ora una maschera di determinazione, affronta Behice in uno scontro verbale intenso. Le sue parole, cariche di promesse e minacce, echeggiano nell'aria. È determinato a svelare la verità dietro l'omicidio di sua madre, indipendentemente dai pericoli o dai costi. Behice, sempre stata abile nel nascondere le sue emozioni, ora mostra chiari segni di tensione. Ogni angolo della casa, ogni sguardo rivolto verso di lei, diventa una potenziale minaccia. La paura di essere scoperta, di vedere affiorare prove che potrebbero incriminarla, la tormenta a ogni ora del giorno e della notte. Ma, a Kukurova, la tragedia e il mistero non si limitano solamente al destino di Hunkar. Rasit, con un misto di riluttanza e speranza, fa ritorno in città, portando con sé un pacco avvolto con cura e curiosità. Si tratta di un dono per Fadik, un tentativo di rimediare, forse. Ma non è l'unico peso che porta con sé. Ha anche una valigia piena di scuse e giustificazioni. Saniye, con il cuore di una madre ma con l'occhio critico di chi ha visto e vissuto molto, chiede spiegazioni. Vuole capire perché Rasit abbia abbandonato Fadik nel momento più cruciale della loro vita. Lui, con una voce incerta, racconta di due anziani i zii coinvolti in un incidente proprio il giorno delle nozze. Una storia, forse un po' traballante, che solleva più dubbi che certezze. Saniye, sempre attenta e intuitiva, sente che dietro queste parole si nasconde una verità ancora da svelare. E voi, appassionati lettori, quale verità pensate si nasconda dietro le ombre di Kukurova? Con l'accusa contro Behice che sembra ormai consolidata nella mente di tutti, come si evolveranno gigli eventi. Vi invitiamo a condividere le vostre teorie e opinioni nei commenti.